Mi ricordo la prima volta che l'ho vista, mi disse, cioè io mi dissi, ah ma figura di Leccia tre anni più di me non mi noterà mai, poi insomma sono magrolino, sono piccolino, siamo diventati i primi amici, poi dopo, io sono andato a lavorare al mare dopo circa sei mesi e lei mi mancava tantissimo, ci siamo cominciati a scrivere sempre più spesso mentre io ero a lavorare giù e una notte presi la macchina e tornai a Teramo e ci siamo scambiati il primo bacio. Grazie a tutti.